Oggi il nostro viaggio in Molise si ferma a Bonefro, il borgo medievale. Il borgo di Bonefro è situato a 631 metri sul livello del mare e la sua origine risale al periodo Longobardo. Sullo sperone roccioso del colle, che dà sul vallone Varco, furono costruiti il castello, la chiesa madre e le case più antiche che formano la terra vecchia. L'abitato si estendeva verso l'esterno attraverso le tre porte, Porta Fontana, Porta Molino e Porta Pie la Terra. Nel 1700 la parte vecchia e la parte nuova del paese furono unite dalla piazza ricavata nell'area del piano. Con la costruzione del monastero nel 1716, Bonefro raggiunge la sua struttura base definitiva. Bonefro deve la sua nascita ad un evento leggendario, al rapimento di tre giovani spose in viaggio di nozze, verso la grotta dell'apparizione sul Gargano di San Michele Arcangelo. Per il dolore i mariti rimasero impietriti, trasformandosi in tre grossi macinni. Si dice che il Padre Eterno, nel sentire la storia, si sia commosso, così trasformò le giovani spose in tre colombe per ricongiungerle ai loro mariti. L'immaginario collettivo vuole che al tramonto, dalla contrata a chiaie donne, ogni sera si alzano in volo per posarsi sui tre macinni e testimoniare, pertanto, un amore coniugale mai venuto meno. Ma l'evento descritto più commovente è la strage dei bambini, accaduta l'8 luglio 1944. Tra gli otto e gli undici anni morirono ben quattro bambini, dopo aver scambiato una bomba per un giocattolo o una scatoletta allettante. E' tra le storie senza dubbio più commoventi d'Italia. Il piccolo Mario Ricciardelli morì tra le braccia della madre, che qualche giorno prima aveva sognato che nella chiesetta di San Nicola vi erano tanti lettini bianchi. Il primo era coperto con le sue lenzuola. Il ragazzo, due anni prima della strage, aveva avuto la pleurite. Fu curato ad Arco di Trento. Qui, la chiesa che frequentava, dopo la sua partenza venne bombardata. Nel crollo morirono tantissimi suoi compagni. Il destino ha voluto che morisse tra le braccia della mamma. A Bonefro, di quattro bambini, le mamme all'epoca vollero funerali separati. Perchè per ogni bambino doveva suonare la sua campana. Potete seguirci su canale 11 in Molise, 880 a Roma, anche sui profili Youtube e Facebook di Telemolise e tramite Amazon Fire. Siamo in onda anche su Telemolise 2, canale 12 del digitale terrestre e su Molise mio, canale di 212. Perchè per altri due anni?